riscaldamento vocale parte 3 cosa fare per scaldare la voce cosa numero uno muovi il corpo rendilo elastico e rispondente alle tue richieste bastano dei semplici esercizi di scioglimento fase numero due sveglia e riattiva i meccanismi della respirazione il che vuol dire inspira nel modo giusto e butta fuori l'aria nel modo corretto quali sono questi due modi inspiri non per inalare ma per lasciare che l'aria entri un momento di rilascio espiri controllando la fuori uscita determinando nella durata delle semplici s possono andare bene per esempio inspiri e usando la quantità di aria quanti gruppi seguono degli esercizi di elasticità e quindi movimento dal basso verso l'alto possono aiutarsi dei limit per il oppure r oppure v hanno delle sirene tipo dopodiché puoi lavorare sulla durata, gestione e risonanza quindi delle vocali muovendoti dall'alto verso il basso e facendo anche agilità